Quelli che si aggirano qui sono corpi soltanto, non hanno più anima, soltanto nomi nel registro dello scrivano, carcerati, uomini, ragazzi, donne, e i loro occhi fissano vuoti, con lo sguardo sbriciolato, distrutto, per ore in una fossa buia, soffocati, calpestati, picchiati alla cieca, il loro gemito tormentoso, il loro pazzo terrore, una bestia, sulle mani e sui piedi, carponi, si affaticano come dementi, grigi, devastati, separati dall'umanità variopinta, irrigiditi, timbrati e marcati come bestiame da macello che aspetta il macellaio e non conosce che il fetido truogolo e il recinto solo paura, solo orrore nei volti, quando di notte uno sparo afferra la vittima e nessuno ha veduto l'uomo che silenzioso in mezzo a loro trascina la croce nuda verso il supplizio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.